In maggioranza i primi ad uscire con quel sostegno e poi abbiamo avviato un percorso sui temi e per la costruzione della lista. Intorno al nostro sostegno si è unita una larga coalizione, una coalizione assolutamente solida e importante perché ha messo insieme anche tanti altri soggetti. Mi sono soddisfatti di questi cinque anni, tanti punti portati a compimento, tanto altro c'è da fare per cambiare il volto di questa città. Teramo è il primo capoluogo in Italia per raccolta differenziata, bisogna andare avanti sul solco già tracciato e portare a compimento tutto ciò che già è stato iniziato.